Mi dà la sensazione di potermici aprire molto, cosa che io sono un po' particolare su questa cosa. Mi piace ridere, scherzare, parlare con tutti, però aprirmi quelle cose. Che fai nella vita? Io faccio l'odonto tecnico. L'odonto tecnico? Ok, lui ti sembra un bravo ragazzo. Sì, molto. Non ti sembra finto? No. Da cosa lo capisci che non lo è? Ma non c'è una cosa in particolare. Imparando a conoscerlo si vede che è proprio una, almeno da quello che sembra, molto buono, molto limpido, trasparente, te stesso in quello che fai, in quello che dici. Ha degli occhi sinceri. Ti piacciono quelli che sono buoni o quelli che sono un po' stronzetti? Bella domanda. Vabbè, qua bisogna conoscersi. Facciamo un bel mix, dai. Perché non diventi? Dipende. Dipende. Sì, ma non è che sia buono, nel senso che è noioso, eh. Anzi, così. No, 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 sembra una persona molto, molto trasparente, non so come dire. Non ho avuto dei dubbi, ecco, su di lui, sul suo modo di essere, di fare. Cioè, hai pensato un po' a lui in questi giorni o no? Sì, sì. E tu a lei? Sì. La cosa di non poterci sentire. Sentire. Ah, la avresti voluta chiamare? Sì. 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 Sì.